Uh, salve amici fratelli della congrega, come mi trovate? Amplo, form, allora periodo di reboot, di reunion ancora gris che ci viene propinato, che viene stroncato da questo signore a livello di critica cinematografica sei stimato, Paolo Merghetti, Rocco Barbaro ve lo ricordate? No, siete un'altra generazione alla mostra della laguna per giocare con analogie speculari o qualcosa di similitudini diciamo, ecco l'associazione la pagarsi, diciamo così o la pagarsi siete inappagati, no, dell'intelligenza critica, con le riminiscenze diciamo, di quel cinema perduto e poi recuperato da chi avrebbe vinto leone d'oro proprio a una mostra internazionale d'articina fotografica con The Shape of Water la fome dell'acqua Guillermo del Toro uomini taurini uomini mostruosi uomini celativi al buio e riapparsi come per magia e curatisi da ogni vostra inibizione da ogni vostro tremore il morbo di Parkinson malattia psicofisica c'è un danno neuronale incurabile degenerativa come la distrofia la differenza diciamo ecco Michael J. Fox ecco che può attenuare i suoi timori no i suoi pavori no che fu un bel pavone no ecco i suoi tremoli io non ho appianato affievolito i crepiti del mio cuore diciamo in maniera portentosa ho vinto sconfitto trafitto osere dire trucidato ogni hater sconsiderato che volle segregarmi seppellirmi nell'oblio obliarmi sì 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 vabbè e il dimenticatoio la dimenticanza di me stesso e da tante rimembranze qui mi ricordo che in questa stanza guardai ritorno al futuro e ritorno al futuro parte seconda poi mi sdraiavo qui ferma immagine già c'era il registratore VHS c'era quella lì con un gonnellino sì sì ho messo l'inizio nel secondo capitolo di questa bellissima saga di Robert Zemeckis e qui ci davo dentro ci diamo nel martellino quindi mi erano periodi scolastici sì 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 pubertà incalzante e questa qui era rapante è un po' tamarra comunque e poi sarebbe subentrata Elizabeth Shue e poi ci fu un effetto blackout ma non quel film diretto dallo sceneggiatore di Calle To Suede David Kerp che lì c'è Kyle McClane e vabbè poi ah fu tutto una sfiga ma comunque mi masturbai anche su Elizabeth Shue di Via da Las Vegas ora pronti partenza via concentriamoci sull'argomento in questione e non tenteniamo non tremiamo non titubiamo abbasso le titubanze sono usciti due trailer quasi in contemporanea diciamo sottolicita della MGM Metodon y miei leoni ah ah ecco quell'icona da tastiera di Tim Wolf voglia di vincere e vi consiglio anche insieme per forza non è male di John Bad regista della febbre del sabato sera War Games un body cap movie con James Boots ecco i miei lupetti io sono la volpe Michael J. Fox meglio essere Michael Douglas perché quello lì quello ci dava dentro con eh eh sì sì allora mentre quest'uomo ha tenutosi regolarmente diciamo a livello professorale istituzionale ehm ha una formazione didattica eh eh una universitaria lui è saggio ha scritto anche dei saggi dicevo visto non è non è paragonabile diciamo Michael Douglas eh dei tempi oramai andati perché anche lui eh ha avuto eh dei problemi fisici lo sapete ecco eh non riusciva a respirare cancro alla gola come questo qui erasmatico come Martin Scorsese che poi ha dovuto riciclarsi dicevo cosa assegna Merighet Merighet la mostra del laguro Rocco Barbare poi torneremo su chi e c'era anche la trasmissione quando tornavo dalle scuole medie andavo da questa vicina di casa Angela no mi preparava da mangiare ascoltava Rocco Duro non con vedere con Sifredi quello ecco Rocky Rocky allora voglio di vincere così è stato diciamo tradotto l'edizione italiana questo film di formazione per teenager che guardavo comunque diciamo dopo l'infanzia essendo molto avanti e poi l'ho presi nel di dietro allora ho sbagliato scusate ho sbagliato ho preso il dizionario che va da la alla L e allora dobbiamo recarci nell'altra stanza e sfilare estrarre e poi vi leggerò un estratto dicevo estrapoliamo ok non decontestel realizzate diciamo allora qui ho un po' tartagliato perché camminando si 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 fu azzoppato andando con gli zoppi e voi zoppicate lo so non siete mai evoluti non vi siete mai curati dalle vostre turbe diciamo invece inserì il turbo a mo' di stallone di quella scena la sua volta a mo' di videoclip di Rocky 4 da lui diretto e adesso rieditato diciamo è esteso con coscene aggiunte aggiungiamo un'altra cena stasera si si oltre a quella regolare un'altra perché si si su musica di pelude letfiba una sana sensazione in un bagno di sudore ho praticato molta attività fisica e quindi devo mangiare il doppio è stato uno sforzo sovrumano come quello di questo rano questo stallone poi stallone si capisce che ha origini diciamo ecco delle nostre parti un paese un paese un paese perché non mi sono mai spiegato Apollo Creed attore Carl Withers vabbè i neri hanno questi nomi un po' particolari Denzel Washington Spike Lee ma Apollo Ivan Drago Ivan ho anche un cugino di secondo grado viene citato in Bologna in sanguinata questo mio libro Ivan ma Ivan ci sta Igor classici nomi russi dall'inist ma Drago non esiste un cognome così un cognome italianoamericano dai stallone ma che cazzo di sceliciatura e che cazzo di nome è Ivan Drago è russo e già qua partiamo molto male Sly eh cioè è un solipsista adatto a tutto diciamo è quella poetica visione politica un po' underground o da underdog da uomo di origine nostrale di cui parenti diciamo si trasferinano nelle Statiunete e lì è Philadelphia e lo mangiava soltanto le sottlete diciamo eh allora voglia di vincere vediamo lo troveremo questo film voglia di vincere viene neanche citata merighetti proprio voglio danzare voglia di vincere una stelletta allora uno studente Fox scopre di essere un lupo vannaro cioè è una malattia quando uno crede di essere un licaltro ma è la carta vincente per ottenere la popolarità nel college allora lupetti lo so che voi siete affamati lupus in fabula io sono un tipo che affabula tutto chiaro? la fabula l'intreccio un intreccio abbastanza lineare questo miei morti di fame non credo una delle commedie pertine vabbè più stupido e conformista del decennio il sequel ha fatto di peggio vabbè adesso esce ancora cosa quando uno è allupato cosa deve uscire che si fa con la birra dicevo ecco si fa con lupo la birra ha tutta birra qui c'è Birgitte Nissen questa sai quando c'è veramente perché il cobra Mario un cobretti cobra non è un serpent donate l'erezione diegabatantuan proprio secondo tragico pantozzi cobra non è un serpent si lo stallone italiano scusi che poi quella si sta con il drago è la fissione però nella realtà è stata anche con Champagne mentre stallone è stata con Angie Everhart quella di Sexual Projector e di nove settimane e mezzo la conclusione mi ricordo mio zio che è morto quello che realizzò quel dipinto lì una volta lo trovai che si masturbò beh sì 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 era estate su Angie Everhart di un numero di Max di agosto vabbè suo figlio si chiama Max adesso ha avuto un figlio Max diminutivo di Massimiliano vabbè uomini over the top che pensi sembra la top vero? allora rock rock barbara rock quattro una stelletta e mezzo beh rock il salone combatte vince contro un super atletico sovietico per l'onore degli us io ti spiezzo in nome che spezzi tu ma mangialo spezzati ma che poi bisogna nutrirsi bene diciamo perché mangiate le uova così come il rock il primo si quel delle semplici morale politiche più recito un po' le dracule giri ulm della pennsylvania non quello il cacciatore di transylvania o come gobacev io ho tante voglie ancora voglie capriciose anche in test quando sarò veramente peletto diciamo forse scoprirò di avere una voglia e fra l'altro questi film piacevano molto a mio amico davide delle scuole elementari sì sì eravamo entrambi faraggi stallona lui ha lavorato anche la voglia matta una gelateria qui vicino a casa in linea con l'ultima fase della guerra fredda ormai ormai via di scioglimento sì perché la siberia lì grazie alla peristri che gorbaciov viene grochi col tronco sulle spalle che corre nella neve contro il biondo sovietico super fantozzi no tecnologizzata imbottito di vitamina decisamente farsesco nel mito della comicità la battuta per l'appunto di spiez pronunciata dal boxer U-R-double-S ecco nella nostra traduzione doppiaggio di ferruccio mendola guarda qui quando ero ragazzi perché se io posso cambiare no questo è russo perché se io posso cambiare se voi potete cambiare tutto il mondo può cambiare ma io so che a stallone cambia della faccia e adesso gira i mercenari 4 con Dolph Lundgren tutto l'ifted però come i Rocky 3 che si rifiò il nesso però a stallone non mentire non fare Pinocchio i tempi di Rambo e invece vischia fisico vischia portamento ma diciamo che il mio comportamento non è stato adeguato rispetto a quelli della mia età ero troppo avanti troppo maturo troppo veloce troppo schattante oh 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 miei polli a pollo a pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo ho preso la gallina sono stato più veloce sì vecchia gallina fa buon broto quindi per entrare in sintonia col falotico dovete risintonizzare ecco tutto quanto riprogrammatevi non siate dei robot come Yvonne Yvonne Adriano meglio Adriano Adriano pregherò stand by me per te ne mi ne può e dal castello del silenzio a volte sono un po' scimesco bingo bogo e li vedi anche te ma allora dobbiamo finire questa roba io voglio di vincere ma voglio perdere è meglio è meglio meglio perdere per rialzarsi perché come sostiene De Niro ecco doppiato da Ferrucciamento l'edizione originale Stefano De Sandro e James Woods sai che ti dico borghesuccio da quando non ti frequento più mi tira anche di più quindi va a fare gollo eh stand rock ah mio zio si chiama rock rock poi lo stilista rock baroc rock baroc lo stile gotico lo stile mio letterario un po' la fa lot guarda non zazzardo darmi del panocchio perché a volte sono panocchio però quattro ragazzi andassi con gli occhialini da scuola da sole che fa tanta figa da stallone che che sceneggiatura che sceneggiatura imbarazzato mi vergogno per lui Brigitte Nils Brigitte il Brigitte perché ricorda le patatine potrebbero affogare la salsa quindi fra un palletto e un bellocchio e l'altro a me sacer per tutto un po' la fa scuola l'altro grazie a tutti